A SD Ficarazzi Calcio a 5. Polemiche in casa SD Ficarazzi Calcio a 5. Infatti sabato scorso, durante la partita interna, alcuni giocatori sono inveiti contro l'amministrazione comunale a causa del gocciolamento del pala Sampognaro che ha impedito la prosecuzione della partita. A riguardo abbiamo sentito il presidente Latargia che si scusa con l'amministrazione spiegando che in realtà la stessa si è messa sempre a disposizione per l'associazione sportiva direttantistica. Abbiamo parlato su Facebook con l'amministrazione che non si occupava del fatto, della separazione eccetera eccetera. Quindi lei come presidente del SD Ficarazzi Calcio cosa vuole dire ufficialmente ai telespettatori di Canale 8 che la stanno sentendo? Mi spiace per l'accaduto, è stata un'esagerazione che ho avuto un po' alla rabbia di una riconfitta. A Cattolino. Ma vi mandiamo scusa pubblicamente come vi è stato fatto sia sulla nostra pagina sia con qualche ragazzo, vi ha parlato personalmente con il sindaco e si è scusato delle brutte parole. Ho capito, quindi in poche parole smentite un po' quello che è successo e ringraziate l'amministrazione. Ma noi non abbiamo mai subitato il lavoro dell'amministrazione, ci ha sempre messo a disposizione le strutture sportive che ci sono in paese, sia il Parasampognaro appunto, il Martinetto, i campi di caccia. Va bene presidente Lattagio, la ringraziamo per queste sue dichiarazioni. Grazie a voi.